A Pesaro l'estate da capitale presentata dall'amministrazione comunale non ha convinto tutti. In particolare Fratelli d'Italia ha sollevato alcuni dubbi sulla gestione degli eventi nei tre mesi estivi. Dalla ruota panoramica alla maxi tavolata di pizza e rossini, tutto e tutti nel mirino della critica. Nicola Baiocchi, consigliere della Regione Marche, esprime grande perplessità anche in vista di Pesaro capitale italiana della cultura. Noi abbiamo forti dubbi, abbiamo delle grosse perplessità perché non vediamo ancora quell'organizzazione, quel tempismo che ci aspettavamo, quei dati che potevano permettere, quell'organizzazione che poteva permettere alle associazioni di categoria, agli albergatori, ai stakeholders del settore di organizzare e per arrivare pronti a questo appuntamento. Ciò non toglie che noi siamo assolutamente contenti se tutto ciò che stiamo dicendo venga assolutamente smentito. Siamo sempre all'interesse della nostra città, però non possiamo che non rappresentare una grande confusione e confondere eventi culturali con eventi che hanno veramente poco di culturale, che sicuramente rappresentano la città per alcune tradizioni della città, come la pizza Rossini, tantissime cose che non possono che essere assolutamente contrario, però non hanno nulla a che vedere con questa programmazione, che pensiamo che debba avere sicuramente un livello culturale e di struttura sicuramente molto diverso. Non riusciamo a cogliere ancora, anche perché c'è stato oscurato ogni tentativo di cercare di sapere cosa ci fosse dietro, perché io penso che nella legittimità e nei ruoli che hanno anche ogni singolo consigliere comunale, di ottenere delle informazioni, dei dati. Tutto ciò non c'è stato permesso, aspettiamo fiduciosi di avere delle notizie in merito, sperando sempre che le cose per la città vadano bene, siamo veramente molto perplessi. Immediata la risposta del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che ha parlato e difeso l'estate da capitale. In verità è stata un'estate davvero importantissima, direi quasi record, perché abbiamo avuto tantissimi eventi culturali, uno alla settimana, migliaia di persone. Penso che sono argomenti di chi davvero ha poco da dire, invece di godere che la città di Pesaro è diventata molto più frequentata, molto più conosciuta e piena di cultura e in vista della capitale, invece di gioirne in qualche modo rodono un po'. Ecco, diciamo, è un atteggiamento secondo me un po' infantile dal punto di vista politico, però insomma ne prendiamo atto.